Mi è appena arrivato il nuovo fondo di Maybelline Superstay 24 ore, il fondotinta che sta andando viralissimo qua su TikTok, io l'ho pagato 16 euro e questa è la colorazione numero 21. Oggi l'andiamo a testare senza filtri, senza luci e senza inganni. Ovviamente qua sopra c'è il fondo, mentre nella parte sotto c'è uno specchietto molto utile e la spugnetta. Considerato il fatto che sto male, ho una cera terribile, come si può sentire dalla mia voce, sono struccata, non userò filtri né luci, penso che sarà una recensione super veritiera. Spero solo sia della colorazione giusta per il mio incarnato. Mamma mia raga, leviga tantissimo la pelle. Ho dato una sola passata su tutto il viso e non so se notate, a parte che la colorazione è perfetta, ma sembra che io ora abbia un filtro. Invece ho dato una passata iper, iper leggera di questo fondo compatto. Forse stenderlo col pennello è meglio, questa spugnetta non è proprio l'ideale. Però volevo appunto testarlo con questa che veniva data in dotazione. Qui avevo un brufolo. Posso dire wow, cioè lo trovo veramente stupendo. Cioè guardate la pelle com'è levigata con un solo passaggio. Io credo che questo sarà il mio fondo per tutta la primavera e tutta l'estate.